Un finanziamento di circa 370.000 euro per il 2023 da destinare ai pugliesi per la riabilitazione termale, ma che la Regione Puglia non ha ancora normato, di fatto bloccando quei soldi che spetterebbero i cittadini affetti da gravi patologie invalidanti. Sono queste le motivazioni che hanno portato il consigliere regionale del gruppo misto e presidente della seconda commissione consigliere Antonio Tutolo a incatenarsi davanti alla sede della Regione per sollecitare gli uffici preposti sulla questione dei finanziamenti alle terme di Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia. Ho fatto leggere poco fa di una cittadina pugliese che mi ha scritto dicendomi che ha un fratello di 48 anni che soffre della distrofia muscolare di Stenere, se non ricordo male vado a memoria e che purtroppo non può beneficiare di questa roba qua anche se negli anni precedenti con altre misure aveva avuto dei miglioramenti. Un altro ragazzo che mi scrive che la sorella ha la sindrome di Daun e che gli altri anni faceva le piscine termali la cura nelle piscine termali e che viveva meglio, stava meglio. Insomma voglio dire, dietro queste carte qua, queste carte qua, poi qua dietro ci sta la sofferenza della gente, ci stanno le persone, ci stanno quelle che ci danno il consenso per occuparci dei loro problemi. A me sembra che dei problemi di questi qua hanno interesse soltanto in campagna elettorale, sono timida campagna elettorale. Dopodiché se ne parlerà nella prossima campagna elettorale. Io non ci sto, scusatemi, io la testa dall'altra parte non riesco a girare. L'assessore alla sanità Rocco Palese in relazione alle proteste attuate da Tutolo in materia di riabilitazione termale ha fatto sapere che una nota di chiarimento è stata già inviata dal Dipartimento Politiche della Salute all'amministratore unico delle terme di Castelnuovo della Daunia. E infatti in fase di predisposizione, spiega Palese, il provvedimento di giunta per l'approvazione degli schemi di contratto da sottoscrivere tra le asle e i legali rappresentanti delle terme pugliesi per quanto attiene le prestazioni di erogare con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento, che conterrà anche le modalità di erogazione delle prestazioni a carico INAIL, sarà approvato entro settembre, spiega Palese. Pertanto i contributi regionali alle terme che vanno inquadrati nei regimi di LEA per le regioni in piano operativo, conclude l'assessore alla sanità, saranno erogati a stretto giro una volta approvata la relativa delibera di giunta. Questa risposta però non basta al consigliere Tutolo. Stamattina magicamente arriva la risposta della regione, e che però non è soddisfacente. Il tema evidentemente gli ho sconosciuto, non lo so, perché non risolve la questione innanzitutto, dice faremo, ma faremo che significa? Quando farete soprattutto si è capito che ci sono 5 milioni di risorse aggiuntive che i governi negli ultimi tre anni hanno stanziato per alleviare la sofferenza delle persone disabili, delle persone che hanno bisogno di quel tipo di terapia, e di cui 370 mila euro sono della regione Puglia per alleviare le sofferenze dei cittadini pugliesi, e non vengono utilizzate, perché nel 2022 e nel 2021 queste somme non sono state utilizzate.